Oltre 12,2 milioni di euro, a tanto ammonta il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 del comune di Val di Dentro, guidato dal sindaco Massimiliano Trabucchi, approvato l'8 marzo scorso in consiglio. Numeri da record ottenuti grazie all'entrata straordinaria da parte di Regione Lombardia, pari a 1,4 milioni di euro, che coprirà per intero le opere di messa in sicurezza del versante sovrastante all'abitato di Sant'Antonio, oggetto di colate detritiche negli anni scorsi. Confermati in bilancio anche altri contributi dal Fondo di Solidarità Comunale, quasi 2,3 milioni di euro, e dalle aree interne, quasi 2,4 milioni. Gettito che in buona parte sostiene il Piano delle Opere Pubbliche 2019, che prevede ad esempio i lavori di rifacimento dell'argine lungo l'alveo del rio Scianno, 150 mila euro, la riqualificazione del tetto del centro civico di Semogo, 50 mila euro, il primo lotto della messa in sicurezza del versante Scala d'Oro, oltre 100 mila euro, e il prolungamento del marciapiede Semogo-Folon. Un'amministrazione snella e giovane, attenta all'ambiente, tanto da investire quasi 1,7 milioni nella manutenzione ambientale, alle giovani generazioni stanziando 700 mila euro, per il piano diritto allo studio e dal sociale, su cui investe 400 mila euro. Numerosi gli interventi in programma sulle diverse aree, vale la pena di ricordare sicuramente l'intervento di realizzazione delle opere di sicurezza, diciamo, di prevenzione, a Monte dell'Abitato di Sant'Antonio, completamente finanziate grazie a un contributo ricevuto da Regione Lombardia per 1 milione e 400 mila euro. Attenzione rivolta a graduali soluzioni di situazioni contingenti, come ad esempio quella delle emergenze valanghe, per le quali è stato avviato un progetto di gestione che entrerà a regime a partire dal prossimo inverno, fatto di professionisti e che, una volta attuato, potrebbe garantire sicurezza e prevenzione, permettendo di identificare in anticipo le situazioni di maggiore pericolo, grazie a modelli previsionali adattati alle situazioni presenti sul territorio e ad incentivare un turismo escursionistico invernale in totale sicurezza. La redazione di un piano di prevenzione delle valanghe per cercare di mettere in sicurezza alcune situazioni presenti all'interno del comune che vanno di scapito dei residenti. Unitamente a questo poi si vuole cercare di mettere in sicurezza alcuni percorsi escursionistici che durante l'inverno vengono fruiti da parte dei turisti e che attualmente non possono essere promossi nella maniera adeguata proprio perché vi è la mancanza di un piano valanghe adeguato che possa consentirgli la loro fruizione in totale sicurezza. Non manca da parte della macchina pubblica un occhio di riguardo al settore che genera l'economia del paese, le imprese per le quali l'assessore Dessi ha previsto un apposito sportello di consulenza e finanza agevolata, curato da un esperto che guiderà gli interessati a conoscere le opportunità dei bandi cui poter partecipare.